Il mondo dell'innovazione italiana si è incontrato alla reggia di veneria per l'Italian Digital Day, cui hanno partecipato anche il Presidente del Consiglio Matteo Renzi e diversi ministri. Tra le novità presentate, il nuovo portale del Governo e Italia Login, progetto per i servizi online per regolare con un'unica interfaccia i rapporti fra cittadino e pubblica amministrazione e fra aziende e Stato. Il Consiglio regionale ha presentato Piemonte Viz, il contest organizzato con Topics. Grazie per la visione!